Buonasera, buonasera, sto vedendo che questo qua non l'ho fissato bene. Va bene, lo farò in un secondo momento. Quindi, aspettate che vi ho perso. Tiziano, buonasera, bentornato, un piacere rivederti. Saluto anche Alessio Capesc Cusa, il montre. Ah, bene, bene, bene. Ottimo. Bene. E prima avete sentito cose strane probabilmente con la musica, perché eravate già sulla pagina mentre il lettore si avvia e Twitch fa cose strane con gli audio quando succede questa cosa. Non ho ancora capito bene perché, però spero mi sentiate bene. Abbasso un attimo. Scusatemi. Ok. Perfetto. Ok, ok, ok. Bene. Perché infatti ho sentito quando hai scritto Alessio, ho detto no, aspetta un attimo. L'ho provato a accendere l'audio, mi ha fatto delle cose molto strane. Poi, ma il refresh ha funzionato, quindi non lo so. E niente. Oggi è mercoledì, mercoledì, ci sono le letture. Quindi continuiamo il prologo di Zendikar e stasera lo finiamo. Stasera finiamo le storie che fanno un po' appunto da prologo a Battaglia per Zendikar. Cos'è? No, 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 non è vero, non è vero. Tra l'altro sono stato di corsa, di corsa a manetta stasera perché sono dovuto rimanere in ufficio più del dovuto. Quindi ho fatto le corse, sono arrivato a casa, ho mangiato e ho preparato tutto velocemente. Per fortuna sono stato previdente e già i giorni scorsi mi ero preparato tutto il resto. La mitica che ti perseguita? Qual è? Qual è la mitica che... È la mitica che non vuoi aprire mai? Appena finito, Zendikar, Bundle, purtroppo niente, Mithook o Planeswalker, ma ho comunque trovato qualche caratteristica interessante. Beh, Innistrad è comunque... È un bel set. Tra l'altro il Mithook Massacre ho visto che nell'ultime 24 ore è tipo schizzato alle stelle come prezzi. È andato appena sotto Vren N7, quindi... Oh, Hope! Grazie mille della sub, nove mesi, nove mesi. Un'altra persona che nasce in questo canale. Grazie mille veramente del supporto, come sempre. Oh, Vren N7 Borderless, lo vorrei anche io. Vren Normale, Vren Normale Foil, e due Vren Full Art Foil. Madò! Cusa? Non lo so. Quando è il prossimo evento? Quando è già il prossimo Magic Fest? Che ci vediamo? Mi lascio tutti i box da farti aprire, perché non... Sì, secondo me sì, è una di quelle carte che probabilmente scenderà tra un po', diciamo, anche mentre è dentro lo standard, per quanto sia forte. Adesso c'è stato un po' uno spike perché ci sono tanti mazzi aggro, ho visto, e quindi Mithook è tipo la risposta perfetta contro quei mazzi. Da quel che ho capito, cioè l'alzata di prezzo è per quello. Ah, ma sacro poi il Full Art, pure. Quindi, diciamo, ha avuto un'impennata, secondo me, in seguito a come si sta un pochino rodando lo standard attualmente. Comunque vedremo, vedremo. Allora, qua la mia acqua. Sì, ma Vren era già alto di default, si è alzato appena appena Mithook, invece è passato tipo da 8 euro a 20, una roba così. Sì, sì, ha fatto proprio un'impennata atomica. Vedremo, cioè, diciamo, per quanto poco ci ha messo a salire, molto probabilmente poi ci impiegherà anche a scendere. Sì, sì, vediamo, vedremo un po' come si evolve poi la situazione. Allora, fatemi un attimo sistemare il microfono. Ok. Quindi, ma no, ci sta, è una carta forte, è una carta forte, è mitica, quindi, diciamo, i presupposti ci sono per cui stia a qualcosina. Probabilmente, appunto, è un po' l'euforia del fatto che l'edizione è appena uscita, che sembra, in questo attuale meta, essere molto forte, ma appunto ormai le carte da standard non raggiungono, diciamo, quando si stabilizza tutto non raggiungono prezzi assurdi. Ah, buono, buono, pure. Buono, belle, tra l'altro, le Slowlands, mi piacciono abbastanza. Anche da Commander sono ottime terre che molto probabilmente rimarranno budget, quindi benvengano, benvengano. E non mi stupirebbe nemmeno vedere le loro controparti nemiche, magari già in Crimson Vow. Ci starebbe, perché sono due set, appunto, legati. Potrebbero condividere il ciclo di terre. Comunque. Allora, fatemi andare qua. Sì, c'è un sito, si chiama cardmarket.com, che è tipo il più grande marketplace europeo. Lì vedi le carte in tutte le loro versioni, vedi la tendenza del prezzo, i grafici e tutto. Linka pure, linkate pure, se avete comodo il link. Non c'è problema. È tipo il miglior sito in assoluto per vedere valutazioni di carte, perché di fatto è proprio il mercato vero. Ci sono sia privati che negotti che vendono, dalle singole ai prodotti sigillati, tutto quanto. Tra l'altro miglior sito europeo che è stato scopiazzato da Channel Fireball in questa settimana. Lear è molto spicy per i commanderisti. È una bella carta da commander, un bel comandante da commander. Vabbè, quello assolutamente, Alessio. Diciamo che è una carta per i commanderisti, Lear. Soprattutto per i commanderisti con power level alto, perché chiede combo dappertutto. Allora, qua dovremmo esserci... Ok. Ok. Allora, dicevo... Questa l'avete già vista come animazione, era l'ultima tra l'altro, animazione della storia di Origins di Miss. Diciamo che dove ho potuto riutilizzare le art, le ho potuto... l'ho fatto. Però sì, ripeto, quando c'hai gli effetti di luce, gli effetti di energia, vengono veramente delle figatine. Allora, per chi è qua per la prima volta, stasera si legge. Si legge nello specifico, appunto, le Magic Story. E nel nostro caso stiamo andando avanti, e tra l'altro appunto stasera finiremo, il prologo di battaglia per Zendikar. Nella scorsa donna di Sbustata c'è nato un creatore degli Eldrazi. Ah, è... E diciamo che era il creatore degli Eldrazi. Stavamo un pochino, diciamo, teorizzando. Gli Eldrazi ufficialmente vivono nella cieca eternità e non si sa la loro origine. Diciamo che parlando di Planeswalker antichi, soprattutto del fatto che ci sarà la Guerra dei Fratelli l'anno prossimo, quindi dove vedremo appunto magari dei Planeswalker antichi, diciamo si è un pochino... millantato di... che magari gli Eldrazi fossero stati creati da un Planeswalker antico a suo tempo. Ma appunto era pura speculazione, puro... diciamo chiacchiera da appassionati. non c'è... non ci sono dati... esatto, illazioni, illazioni, ecco per te il termine corretto. Illazioni. Sembra che sia uscita una storia con Marie Plage? No, no... Ah, oggi è uscita, tra l'altro. Ho recuperato... Innistrad mi ha fatto riprendere a leggere tutte le storie, sono a pari con le storie... con la storyline principale di Innistrad, mi mancano alcuni spin-off. e ne parleremo. Ne parleremo. Allora. Allora, è uscito l'ultimo episodio, diciamo così, poi non so se è uscita... se è uscito qualcosa, perché appunto gli spin-off mi mancano quello su Willelt e quello su... quello che si chiama His Eyes, All of Them, i suoi occhi, tutti quanti. Forse è quella, quella di Marie Plage, però... su Innistrad in teoria non c'è Marie Plage. Potrebbero esserci altri mostroni. Però, vedremo. Anche lì. c'è tanto da dire. E soprattutto, finita la lettura di stasera, parliamo un attimino delle prossime live, perché ci sarà una pausa delle letture, ve l'avevo già anticipato, ma forse questa pausa del continuo delle nostre letture potrà essere compensata con qualcos'altro. però, appunto, dipende tutto da me. Dipende tutto dal tempo che ho a disposizione. Quindi, per chi è qua la prima volta, torniamo al discorso principale. Si legge, o almeno io leggo, voi siete lì sotto i vostri avatar, vi ricordo, perché è qua e che ancora magari non l'ha personalizzato, sotto il player c'è un bel riquadro dove potete personalizzare il vostro avatar. Ci sono anche, come vedete dagli altri, dei accessori a tema magic che ho provato a fare io. Mr Panda, buonasera, bentornato. Alessio, potrei pensarci, però dipende appunto dal tempo. Perché Arena non lo accendo da un anno, forse di più. Forse qualche draft, se proprio, però diciamo mi piacerebbe giocare ad Arena nel momento in cui anche a me piace giocare ad Arena nel mio tempo libero. E magari appunto una volta che sarò in casa nuova, eccetera, eccetera. potrò far finta di essere sorpreso dai bug, perché io sto, io comunque mi tengo aggiornato e sto leggendo delle cose che io dopo un anno che ho smesso di giocare sto trovando peggio di quando giocavo. quindi non è un bel segno, ecco. Spero che questa cosa finisca prima o poi del client perennemente buggato. Comunque, Arena sarà, è un discorso a parte. Manda pure il link. Quindi, si legge, io leggo, voi in chat potete tranquillamente parlare tra di voi. E bravo Alessio. Potete parlare tra di voi, dar, diciamo, anche fare commenti anche rivolti a me, ovviamente, io poi comunque ogni tanto ci sono delle pause, anche se nella storia di oggi ce ne sono poche, molto poche, ma comunque cercherò di stavo dando un'occhiata cercherò di ogni tanto fermarmi per appunto un po' anche vedere le vostre reazioni e rispondere ad eventuali domande o rispondere ad eventuali reazioni per l'appunto e stasera si parla della nostra cara Nissa. Come avete notato le storie del prologo essenzialmente hanno un pochino ricalcato quelle di Magic Origins tra l'altro vi ricordo per chi è qua da poco che le altre letture le trovate su YouTube qua sotto trovate il link del canale e ci sono le playlist appunto delle live di lettura che abbiamo fatto quindi potete eventualmente anche recuperare quello che vi siete persi tant'è che su YouTube c'è la possibilità di mettere i capitoli quindi tutte queste parti dove magari io parlo con voi e chiacchiero faccio le introduzioni eccetera eccetera potete saltarle andare direttamente alla lettura che vedete quanto dura e che è una certa sezione del video e poi passare alla lettura successiva in questo modo diciamo è molto molto più semplice molto più veloce diciamo recuperare e allora come per le altre storie del prologo di Zendikar tranne quella di Chandra per qualche motivo c'è una brevissima introduzione alla storia un pochino diciamo che è un po' più un collante con la storia di Magic Origins e che ora vi leggo ed c'erano passati molti anni da quando il mondo di Zendikar era entrato in contatto con Nissa Revain per la prima volta le aveva inviato le visioni e l'aveva supplicata di rimuovere quel mostro scuro che era stato intrappolato all'interno delle sue montagne nonostante Nissa avesse affrontato coraggiosamente la mostruosità e il drazi in quell'occasione non fu in grado di distruggere né lei né i suoi fratelli da quel primo incontro Nissa aveva dedicato la propria vita alla lotta contro gli sciami di eldrazi che infestavano il suo mondo era andata incontro a molti passi falsi e fallimenti ma sembrava che Zendikar continuasse ad avere fede in lei il mondo le inviava il suo potere ogni volta che lei lo richiedeva e si manifestava sotto forma di un gigantesco elementale simile a un albero che la aiutava in battaglia Nissa aveva quindi continuato a combattere nella speranza che Zendikar avesse avuto ragione a scegliere proprio lei quindi essenzialmente ha dei dubbi la nostra cara Nissa ah sembra abbiano confermato ah nei fumetti nei fumetti eh interessante interessante che maritlage torni in qualche modo allora direi che possiamo partire con la lettura così sono già 9.20 così non ci dilunghiamo troppo diciamo solitamente le live di lettura sono un pelino più corte del normale quindi quindi diciamo anche per voi potrebbe essere meglio rispetto al solito allora direi che io faccio partire la musica abbiamo anche qua Nissa sempre che ci fa compagnia qua muto e ora possiamo partire si si sente si si sta sentendo pian piano al massimo posso fare così ok le letture no le letture non durano tanto perché cioè comunque il numero di fogli è finito allora direi di partire quindi abbiamo l'ultima storia del prologo di battaglia per Zendikar che si intitola per l'appunto per Zendikar Nissa si ergeva al fianco del torreggiante elementale di Zendikar su un crinale dal quale poteva osservare la foresta di Bosco Vasto dalla loro posizione era quasi possibile rilassandosi un po' e stringendo gli occhi cogliere solamente le sfumature di verde e marrone i colori naturali della foresta ma lei era conscia di quella presenza di parti di colore pallido serpeggiavano attraverso la terra come letti di fiume asciutti Nissa avrebbe voluto che lo fossero la siccità anche la peggiore siccità sarebbe stato un male inferiore a ciò che il mondo stava affrontando ora le sgualcite bianche tracce di corruzione che la nidiata eldrazi di Ulamog aveva lasciato nella propria scia erano tracce di morte di vuoto di nulla gli eldrazi risucchiavano la vita e l'essenza da tutti gli esseri viventi che incontravano dietro di loro non cresceva neanche un filo d'erba anche le persistenti libellule si tenevano alla larga dalle aree corrotte all'inizio molti degli abitanti di Zendikar credevano che la terra morta si sarebbe ripresa e con il tempo la vita sarebbe tornata ma erano trascorsi anni e i segni della corruzione degli eldrazi continuavano solo a diffondersi sembrava che il danno causato dagli eldrazi fosse permanente la vita che Zendikar aveva perduto era andata persa per sempre stavano per giungere al punto in cui il mondo non avrebbe avuto più nulla da offrire vogliono prendersi tutto disse Nissa a volte ho l'impressione che non saremo in grado di fermarli stava parlando soprattutto a se stessa ma anche all'elementale al suo fianco aveva iniziato a parlargli negli ultimi giorni anche se aveva l'impressione che non fosse in grado di comprendere le sue parole l'unico segno di comunicazione che Nissa riceveva dall'elementale era un gesto che ripeteva alcune volte al giorno come se stesse toccando qualcosa con un ramo una mano che afferrava qualcosa che Nissa non era in grado di vedere o comprendere aveva cercato di comprendere nel significato ma le sue intuizioni sembravano sempre sbagliate ciò non l'aveva dissuasa dal parlargli però dal momento in cui si erano divisi dalla compagnia di Hamadi e dagli altri elfi erano rimasti solo loro due a viaggiare in ciò che rimaneva della foresta di Bosco Vasto e Nissa trovava conforto nell'utilizzare la sua voce per qualcosa che non fossero solo urla da battaglia abbiamo fatto un gran bel lavoro laggiù Nissa fece un cenno con la testa al suo compagno indicando la sezione della foresta che avevano appena finito di liberare i cadaveri di due eldrazi erano sul terreno dietro di loro e l'elementale al fianco di Nissa era l'autore dello smembramento di quattro dei tentacoli del più grande Nissa avrebbe voluto dimostrargli la sua gratitudine ma stava ancora cercando di imparare come interagire con lui la prima volta che aveva evocato l'imponente elementale era rimasta stupita proprio come le persone intorno a lei il suo potere la sua imponenza le dimensioni era sorprendente certo era abituata a combattere al fianco di elementali a incanalare il potere della terra attraverso di loro ma non era abituata a questo e questo elementale non era come gli altri e non era solo per il fatto di essere abbastanza grande da sollevare un intero eldrazi di medie dimensioni con una sua sola mano a forma di ramo anche se era di sicuro una qualità da apprezzare questo elementale non ritornava nella terra dopo il termine della battaglia rimaneva connessa la seguiva e la osservava sebbene non potesse comprenderla sembrava che l'ascoltasse aveva una presenza una personalità forse aveva molto di più per questo motivo sembrava strano che non avesse un nome vorrei sapere come chiamarti disse Nissa osservando tra i rami dell'elementale verso il cielo di una nuova alba nei momenti come questo quando parliamo vorrei poterti chiamare in qualche modo hai un nome? l'elementale non fece alcun movimento per rispondere non che Nissa si aspettasse diversamente eppure sei d'accordo se ti assegno un nome? l'elementale non reagì che ne dici di Asshaya? chiese Nissa Asshaya il mondo risvegliato aveva preso l'idea di questo nome da Amadi la prima volta che Nissa aveva evocato l'elementale Amadi aveva chiamato Nissa Shaya che aveva il significato di colei che risveglie il mondo se lei aveva il dono di risvegliare il mondo allora l'elementale doveva essere per forza il mondo risvegliato i rami dell'elementale si contorsero e si allungarono Nissa però Nissa pensò che si stesse muovendo come se stesse reagendo al nome quando le sue radici si fermarono sembrava soddisfatto bene il tuo nome sarà Asshaya allora conclusa Nissa il nome sembrava appropriato suonava bene quando i primi raggi della luce del sole furono visibili sull'orizzonte Nissa sospirò allora Asshaya che cosa facciamo ora? questa era una domanda che Nissa si era posta molto spesso ultimamente che cosa avrebbe dovuto fare una semplice elfa con tutto quel potere una semplice elfa in questo mondo enorme e in un multiverso ancora più enorme che cosa avrebbe dovuto fare quest'elfa ma questo non era esattamente ciò che Hamadi aveva cercato di dirle il suo compito era di salvare il mondo il suo compito era di utilizzare quel potere quell'elementale Asshaya e distruggere gli Eldrazi Zendikar l'aveva scelta ma Hamadi non sapeva tutto quanto Zendikar aveva già scelto Nissa in precedenza quando era molto giovane le aveva inviato delle visioni e aveva chiesto il suo aiuto e Nissa aveva cercato di aiutare Zendikar ma aveva fallito lei aveva fallito e allora perché il mondo l'aveva scelta di nuovo davvero te lo sto chiedendo Nissa volse lo sguardo verso la piastra di legno frontale di Asshaya nel posto in cui l'elementale avrebbe dovuto avere gli occhi se mai li avesse avuti Zendikar che cosa si aspetta che io faccia che cosa ti aspetti tu da me l'elementale non mostrò alcun segno di averla udita tu sei parte di Zendikar giusto Nissa avrebbe voluto scuotere i suoi rami per uscire una risposta dal suo imperturbabile volto di legno perché sei qui con me tra tutti gli elfi tra tutte le persone i core i tritoni di Zendikar avresti potuto addirittura scegliere un goblin perché proprio me Nissa scosse la testa io ho fallito l'ultima volta che mi hai scelta ho fallito che cosa ti fa pensare che questa volta andrà diversamente che cosa ti fa pensare che sarò in qualche modo migliore più forte più coraggiosa io sono così proprio così come mi vedi ora Nissa spalancò le braccia mostrando tutta la sua statura all'elementale questo è tutto e non ci sarà mai nient'altro a Shaya il mondo risvegliato si mosse sollevò una mano massiccia e la tenne aperta con il palmo rivolto verso Nissa stava compiendo lo stesso movimento che aveva compiuto innumerevoli volte prima di quel momento Nissa sospirò cosa che cosa significa l'elementale diede lentamente forma a un pugno usando le sue spesse dita simili a rami Nissa lo guardò torba non capisco non capisco ciò che stai cercando di dirmi a Shaya mosse il pugno verso il proprio petto lo distese di nuovo e poi una dopo l'altra srotolò le dita e aprì il palmo a faccia in su Nissa sapeva che questo era il termine del gesto lo aveva già visto aveva cercato di mettere la sua mano nella mano dell'elementale aveva cercato di allungare il proprio braccio con il palmo a faccia in su aveva pensato che fosse una richiesta di guardare verso l'alto aprire la sua anima ed entrare in contatto con Zendikar aveva compiuto tutte queste azioni senza alcun risultato a Shaya fece di nuovo quella serie di gesti sei cocciuto quanto me gli disse Nissa a Shaya lo fece una terza volta poi una quarta basta Nissa fermò il gesto dell'elementale prendendo il suo gigantesco pollice tra le mani al tocco la tensione uscì dalle sue spalle respirò il profumo di Shaya l'aroma della foresta polvere linfa legno e foglie era magnifico era potente mi dispiace vorrei poterti capire il suo cuore fu invaso dal dolore dell'onestà del suo tentativo a Shaya mise l'altra mano sopra quella di Nissa tenendo la piccola mano dell'elfa tra i suoi rami giganteschi questo era un gesto nuovo un gesto che l'elementale non aveva mai compiuto prima il cuore di Nissa accelerò e le sue dita formicolarono nella trepidazione di ciò che sarebbe successo l'aria tra loro si fece più pesante e Nissa sentì una potente forza irradiare da Shaya e poi dalla valle sottostante provenne un urlo distante e disperato faccio un attimo di pausa anche se non ci sarebbe ufficialmente fatemi leggere ok buonasera bebbo perché se sceglieva Obnixiri si sarebbe nutrito del male dell'intero piano abbandonandolo senza vita giustamente mancanza di personale a Shaga cos'è aiuto allora fatemi bere perché questa storia è abbastanza battuta di fila è un bordello è una magia di Final Fantasy Asha Asshara e Asshaga e Asshasa allora dopo questa cosa mi sistemo perché mi fa già male la schiena e almeno c'è un cambio di musica perché c'è questo urlo chissà cosa potrebbe essere questo urlo allora fatemi andare ok quindi c'è questa introspezione con Asshaya il fatto che perché Zenicar mi ha scelto anche se la prima volta che mi ha scelto ho fallito quello che mi aveva chiesto di fare il fatto di riuscire a comunque comunicare con un essere che è pura natura quindi che non comunica come noi ma tutto questo viene interrotto non credo che gli occhi luminosi siano solo quando usa la magia Nissa ma non ci metterei la mano sul fuoco però penso ci siano art di Nissa senza gli occhi luminosi e con le pupille normali diciamo così quindi sentirono un urlo distante e disperato dalla valle sottostante Nissa e Asshaya sobbalzarono si voltarono entrambi nella direzione dell'urlo e osservarono da sopra il bordo del crinale un secondo urlo strangolato perforò il giorno nascente laggiù indicò Nissa non troppo lontano videro la figura tesa e di un viola innaturale di un eldrazi splendere nella luce del mattino da ciò che Nissa poteva vedere sembrava come se l'eldrazi avesse appena fatto irruzione in un piccolo accampamento si trovavano almeno due fuochi ardenti nelle vicinanze e quelle che sembravano una decina di tende sparse tra gli alberi tre figure avevano circondato l'eldrazi una sembrava essere un core mentre le altre due potevano essere elfi sembrava che l'eldrazi fosse riuscito a intrappolare una quarta figura fosse un umano sotto uno dei suoi gomiti ossuti l'umano urlò di nuovo Nissa e Ashaia videro gli alberi vicino al piccolo accampamento tremare poi con tre schiocchi rapidi e sonori tre alberi crollarono al suolo e altri due mostruosità eldrazi una con tentacoli e l'altra con un numero impensabile di mani si fecero strada fino all'accampamento la loro scia di pallida corruzione distrusse i tronchi caduti altri tre alberi scomparsi per sempre da Zendikar l'eldrazi con i tentacoli si avvicinò al core che era impegnato a combattere con la prima mostruosità viola dietro di te lo avvisò Nissa ma il vento portò la sua voce lontano dalla valle il tentacolo più spesso dell'eldrazi colpì dietro le ginocchia del core e la gettò a terra fuori dalla vista di Nissa no! Ashaia lasciò andare la mano di Nissa la quale corse giù dal crinale da questa parte! strattonò l'elementale ordinandogli di seguirla la macchia era fitta e non era presente alcun percorso libero nonostante Nissa fosse abile nel movimento attraverso la foresta fitta la sua preoccupazione per la core la fece correre più velocemente di quanto sarebbe riuscita normalmente barcollò due volte nella discesa rimproverandosi ogni volta per la perdita di secondi preziosi una volta giunti al livello del terreno Nissa si voltò verso il sole e si incamminò traverso gli alberi facendo segno ad Ashaia di seguirla i rami le colpirono il volto e i rovi le tagliarono le caviglie ma lei considerò ogni graffio come una conferma della forza della foresta la forza che avrebbe scatenato contro gli eldrazi quando Nissa e Ashaia giunsero al piccolo accampamento le tende, gli approvvigionamenti e i corpi dei caduti erano coperti di sangue ed erano appiccicosi a causa del sangue rappreso degli eldrazi oppure erano stati trasformati in gusci vuoti e pallidi Nel centro dell'accampamento tutti gli eldrazi dall'attesa carne violacea si stavano nutriendo del cadavere di un elfo Nissa distorse lo sguardo appena in tempo per ingoiare la bile che le risalì in gola poi si voltò di nuovo e si lanciò alla carica incitando anche Ashaia si mise in contatto con la terra sotto l'eldrazi viola e sollevò una grande parte del terreno insieme alle piante, ai rami caduti e agli altri detriti della foresta con un forte strattone rimosso il terreno sotto di lui l'eldrazi scivolò di lato scendendo lungo il pendio creato da Nissa per finire dritto tra le braccia di Ashaia Nissa inviò il proprio potere all'elementale che afferrò l'eldrazi per il collo e frantumò la struttura interna di quella mostruosità facendola crollare senza vita al comando di Nissa Ashaia lasciò andare l'inerme eldrazi con un leggero colpo l'orrore cadde sul terreno della foresta di fianco al corpo dell'elfo abbattuto un eldrazi Nissa si voltò verso gli altri due ma era troppo tardi uno spesso tentacolo rosso si avvolse intorno a una gamba di Ashaia l'eldrazi dai tentacoli ora con solo tre tentacoli rimasti gli abitanti dell'accampamento dovevano essere riusciti a ricidere gli altri tre si avvicinò all'elementale il petto di Nissa fu colmo di rabbia stai lontano da Ashaia evocò le forti e serpeggianti radici di un albero vicino e le arrotolò intorno a uno dei tentacoli posteriori dell'eldrazi fu come un tiro alla fune Nissa chiese ad Ashaia di tirare in una direzione mentre le radici dell'albero tiravano nell'altra con la forza della terra l'eldrazi si sarebbe presto spezzato dilaniato nelle sue stesse mollicce carni rosse aiuto una voce attirò l'attenzione di Nissa proveniva dall'alto una core quella che Nissa aveva visto dal crinale si trovava sui rami di un alto albero il terzo eldrazi stava cercando di afferrarla con le sue otto appendice biforcate che terminavano in sedici mani a otto dita la core utilizzò il suo uncino per squarciare l'appendice più vicina staccandone tre dita del quarto giunto ma sussultò dal dolore nel gesto e si accasciò sul ramo più vicino era stata ferita probabilmente nella lotta a cui Nissa aveva assistito aveva bisogno di aiuto Nissa si mise in contatto con i rami dell'albero e prese il comando di una decina ordinando loro di avvolgersi intorno alla core ma quella barriera fermò gli eldrazi solo per un momento ognuna delle sedici appendici dell'orrore afferrò uno dei rami e strattonò anche i rami più robusti si spezzarono come ramoscelli Nissa guardò verso Ashaia alla ricerca di aiuto ma la sua mancanza di attenzione per l'elementale aveva permesso all'eldrazi con i tentacoli di guadagnare terreno era riuscito a resistere al tiro alla fune e aveva afferrato una gamba di Ashaia con un altro dei suoi tentacoli ora stava tirando l'elementale verso le sue fauci cinguettanti aiuto! la core chiamò di nuovo ti prego! il cuore di Nissa batté più forte a solo sguardo da Ashaia alla core non poteva essere in due posti contemporaneamente la situazione era semplice aveva bisogno della forza di Ashaia per salvare la core cerca di resistere! infuse tutto il suo potere in Ashaia chiedendo all'elementale di ruotare sulla sua gamba intrappolata sui tentacoli dell'eldrazi con il suo altro enorme piede una volta un'altra volta e ancora una volta i colpi fecero schizzare poltiglia di Eldrazi lasciandolo con un solo tentacolo la ferita sembrò sufficiente per fargli perdere l'equilibrio strisciò all'indietro ritirandosi tra gli alberi contorcendosi e sibilando Nissa non si fermò trascinò Ashaia con sé compresi i tentacoli strappati e andò verso il terzo Eldrazi quello dalle troppe mani ma non c'era più e non c'era più neanche la core Nissa li cercò disperatamente tra gli alberi spingendo i rami che le bloccavano la vista dove era andato a finire quell'orrore dove aveva portato la core un fruscio le rivelò le risposte Nissa spostò gli alberi tremanti e scoprì il cammino dell'Eldrazi si trovava già a molte centinaia di metri e si affrettava agilmente con le sue 14 appendici si era ribaltato per utilizzare sette delle sue braccia come gambe e l'ottava appendice era piegata a un angolo innaturale per trasportare la core vicino alle sue fauci una bianca e pallida linea di corruzione si stava facendo strada lungo la gamba della core Nissa corse lungo la scia lasciata tra gli alberi dall'Eldrazi ma quel mostro non si fermava l'Eldrazi consumò la vita della core e trasformò il suo pallido corpo immobile in polvere la polvere annebbiò la vista di Nissa e le pizzicò gli occhi rallentò trattenendo le lacrime non c'era più nulla che potesse fare per la core con un lungo sospiro come per rimuovere il ricordo dalla sua mente si rimise in cammino verso l'accampamento e verso Asshaya fatemi leggere in caso di stimo pericolo possono fuggire invece gli altri se finiscono in trappola vengono annientati dagli Eldrazi esattamente quanto tempo è passato tra battaglia per Zendikar e rinascita mi sembra sia guarito troppo in fretta mi sarei aspettato ancora delle desolazioni in giro allora non lo so sinceramente perché noi sappiamo solo che tra Ombre su Innistrad e Caccia di Mezzanotte sono passati due anni e Ombre su Innistrad è esattamente dopo battaglia per Zendikar quindi c'è da capire se il tempo trascorre nello stesso modo su entrambi i piani quindi mi verrebbe da dire almeno due anni secondo me tra battaglia per Zendikar e Zendikar Rising la host di Bloodborne quindi secondo me sono passati circa due anni perché Zendikar Rising non è subito dopo Guerra della Scintilla è un pochino dopo quindi mi verrebbe da dire diciamo dai due anni in su ma poi bisogna vedere Cusa come interagisce la corruzione Eldrazi nel momento in cui gli Eldrazi non ci sono più perché in Caccia di Mezzanotte ci hanno e anche in realtà in diciamo Ombre su Innistrad barra Caccia di Mezzanotte ci hanno un po' spiegato che sembrerebbe che se in un qualche modo tu riesci a fare in modo che l'Eldrazi progenitore non abbia più influenza sul piano la sua appunto la sua influenza svanisca quindi potrebbe benissimo la cosa essere spiegata con Ulamog e Kozilek non ci sono più su Zendikar quindi la loro corruzione è più debole barra svanisce pian piano e può essere sostituita diciamo con Embracul hanno usato questa diciamo spiegazione per dire che non c'erano più le mutazioni e le cose gli Eldrazi su Innistrad perché l'hanno tra virgolette hanno reciso il suo legame con il piano in un modo in un certo modo potrebbero aver usato la stessa cosa potrebbero aver usato la stessa cosa come spiegazione appunto oddio Nissa dal pollice verde più 1 evita una piedina piantina bersaglio con quando questa creatura viene distrutta da un permanente controllato da un avversario il suo controllo ottiene non ho capito controllato da un avversario ottiene un segnalino sentirsi in colpa meno 2 se controlli 3 o più piantine evoca una pedina ah no ok non avevi finito di scrivere ok 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 comunque diciamo che il tempo il fatto che ci potrebbe aver impiegato poco tempo a riprendersi potrebbero tranquillamente dire non c'erano più gli Eldrazi quindi c'è impiegato di meno oppure ha potuto riprendersi cosa che appunto qua sembra che sia impossibile dopo che una una certa parte di mana barra natura viene corrotta dagli Eldrazi e poi bisogna capire perché Zendikar è particolare il mana si crea è molto impettuoso c'è il torbido che di fatto è mana che si sposta in grandi quantità cioè nel senso è abbastanza facile giustificare comunque la cosa su Zendikar è abbastanza semplice su un piano cioè sono riusciti a giustificarla a mio parere in modo in modo sensato su Innistrad diciamo su Zendikar semplicemente possono dire Zendikar ha tanto mana ha una certa qualità di mana motivo per cui tra l'altro gli Eldrazi comunque sono stati attirati dal piano potrebbero dire si è ricreato il mana appunto easy e il tutto facilitato dal fatto che non c'è più l'influenza degli Eldrazi quindi il tutto è diventato più semplice e magari anche il fatto che Nissa fosse su Zendikar e abbia in qualche modo veicolato la la rinascita ovviamente è diciamo gioca un suo ruolo diciamo che hanno creato scuse barra spiegazioni molto peggiori allora direi di continuare cambiamo canzone quindi purtroppo la nostra cara Nissa non è riuscita a salvare l'accampamento dagli Eldrazi ne ha uccisi due su tre e il terzo è riuscito a fuggire uccidendo la povera Cor do un'ultima bevuta ok lungo il cammino passo attraverso un sentiero di corruzione creato con buona probabilità dall'Eldrazi menomato con un solo tentacolo il cuore di Nissa crollò se quell'Eldrazi aveva lasciato l'accampamento significava che non c'era più nulla di cui nutrirsi nulla era rimasto si accorse presto di aver avuto la giusta intuizione nella piccola radura era rimasto solo un vuoto di corruzione Eldrazi Nissa sono svanite anche la terra aveva subito una grave sconfitta Nissa era tremendamente dispiaciuta ma aveva avvisato Ashaia aveva detto che non sarebbe stata la scelta giusta per Vendikar ora aveva finalmente visto che lei aveva ragione non è colpa tua la voce sottile e secca colse di sorpresa Nissa per il tempo di un battito cardiaco pensò che appartenesse all'elementale ma poi ne identificò la fonte un vampiro che zoppicava verso di lei da una spessa macchia di alberi stava trasportando il corpo di un'umana priva di sensi tu hai fatto tutto il possibile a poca distanza da Nissa si inginocchiò ed istese con gentilezza l'umana sul pallido terreno la vista di un vampiro che aveva una tale cura di un altro essere vivente era sconcertante Nissa aggrottò le sopracciglia spostando lo sguardo dal vampiro alla donna non ti preoccupare non sta soffrendo sussurrò il vampiro me ne sono assicurato se ne andrà a breve e poi potrà essere sepolta osservò gli altri cadaveri pallidi insieme agli altri si alzò e fece un passo verso Nissa istintivamente Nissa fece un passo all'indietro il vampiro fece una bassa e seria risata non mi stupisco della tua reazione considerate le tue esperienze passate con i vampiri Nissa Nissa inspirò rapidamente come fai a conoscere il mio nome che cosa stai dove fu confusa e si incespicò nel parlare hai così tante domande e io darò una risposta a tutte quante disse il vampiro compiaciuto ma prima ho io una domanda per te se non ti dispiace perché sei ancora qui perché sei ancora su Zendikar Nissa sbatte gli occhi e la sua confusione aumentò pensavo che te ne saresti andata molto tempo fa continuò il vampiro insieme agli altri uguali a te quando ho accettato di portare a termine questa missione ho dato per scontato che avrei dovuto trovare qualcuno la cui scintilla stava per accendersi qualcuno che avrei potuto implorare prima che avesse il potere di fuggire da questo mondo morente ma trovare un planeswalker prima che abbia compiuto il suo primo viaggio è un compito più impossibile di quanto si possa già immaginare tu sai Nissa fece un altro passo all'indietro i peli sulle sue braccia si rizzarono tu sei io oh no no ma sono onorato dal tuo pensiero che la mia specie possa avere un'anima tale da poter nutrire una scintilla io non penso il vampiro sollevò le mani su non c'è bisogno di incrinare la benevolenza che è appena costruito tra noi è un ottimo punto di partenza per la fiducia che sto per riporre in te fiducia? un vampiro? questa creatura poteva tranquillamente essere un servo di Ulamog o un massacratore di elfi Nissa non si fidava dei vampiri appoggiò saldamente i piedi a terra e attinse il potere della terra per liberare la mente non c'è benevolenza tra noi dammi una buona ragione per non porre fine alla tua esistenza in questo momento ho quattro ottime ragioni te le darò tra un attimo sono dei doni da parte di Anowon Nissa tremò era da tantissimo tempo che non udiva il nome dell'antico vampiro lei cercò di scrutare tra le ombre aveva trovata di nuovo si trovava di fronte a un'imboscata non avere paura piccola elfa non c'è motivo di preoccuparsi Anowon non è qui dov'è? non ho idea di dove sia è sparito da anni ma prima di sparire parlava spesso di te mi ha parlato dei tuoi poteri delle tue abilità della tua scintilla sei la prima che mi è venuta in mente quando ho iniziato questa impresa ma non mi sarei mai aspettato di trovarti ancora qui sono molto contento di averti incontrata tirò fuori un piccolo oggetto ricoperto di setta grigia e glielo offri di che cosa si tratta? Nissa non osò toccarlo con una seconda espressione di gentilezza il vampiro rimosse lo strato superiore e rivelò quattro piccoli semi che si trovavano al centro l'indicò uno dopo l'altro colia mangrovia rossa giaddi rovo sangue rovo sangue il cuore di Nissa ebbe una fitta di dolore al pensiero dell'amata pianta del suo continente di origine ma il suo istinto le diceva che quella era sicuramente una menzogna Balagedda è stata distrutta tutto tranne questo seme il vampiro avviluppò con cura il tessuto e lo ripiegò di nuovo devi comprendere ciò che sto per chiederti di fare Lenswalker Nissa devi comprendere quanto è grande la mia speranza che tu riesca a salvare Zendikar Nissa comprese le stava chiedendo di prendere quei semi e di portarli su un altro piano so che potrebbe sembrare una strana richiesta da parte di un vampiro ma in questo periodo disperato ci troviamo tutti a compiere strani gesti devi sapere che ho visto la mia essenza nel robosangue di Balagedd letale urticante contorto sorrise quindi se riuscisse a sopravvivere da qualche altra parte fece un cenno sprezzante verso il cielo allora in qualche modo sopravviverò anche io allora sopravviveremo tutti noi le offrì il tessuto ancora una volta ti prego di prenderli Nissa strinse gli occhi e studiò il vampiro non riusciva a comprendere bene questa creatura non era come gli altri vampiri che aveva conosciuto stai dicendo sul serio non c'è nulla di più serio della fine di un mondo e tu credi che questo mondo sia prossimo alla fine sì lo è so che è così il vampiro si avvicinò e sussurrò e lo sai anche tu Nissa l'imputazione la colpì il vampiro si sbagliava Nissa non pensava che quella fosse la fine Zendikar stava ancora lottando c'era ancora una possibilità ti sbagli gli rispose questo è un momento difficile non c'è dubbio ma ci sono molti di noi che sono pronti ad affrontare il nemico in battaglia e la terra stessa combatte insieme a noi hai vissuto il torbido tutti i tentativi onorevoli ne sono sicuro come il tuo di oggi il vampiro indicò l'accampamento corrotto con il braccio nel frattempo la donna che aveva riportato era giunta nel mondo dei morti il problema è che questi tentativi non sono abbastanza soprattutto quando sei chiaramente in inferiorità numerica possiamo cambiare questi numeri ora ci sono tre progeni in meno in questa foresta rispetto a questa mattina Nissa cercò di controbattere e quante ne sono state create nel frattempo in tutto il piano per prendere il loro posto Nissa iniziò a parlare ma comprese di non avere argomenti il vampiro avvicinò le dita tra loro non è colpa tua non hai possibilità di successo esistono centinaia di migliaia di eldrazi e continueranno ad aumentare non importa quanti tu ne uccida non importa intanto che i titani rimangono in vita sei un elfa intelligente e sai che ho ragione lo sai da molto tempo Nissa si stizzì non è mia intenzione offenderti sto semplicemente analizzando i fatti e perfino tu non sei abbastanza potente da uccidere un titano era la verità Nissa arrossì aveva cercato di dire a Zendikar che non era all'altezza se solo l'avesse ascoltata stai solo ritardando l'inevitabile ma tra poco non avrei più il tempo di abbandonare Zendikar io non il vampiro interruppe la frase di Nissa lo farai e questo è il motivo per cui sono contento che i nostri cammini si siano incrociati mise i semi nella sua mano tu sei una planeswalker potente hai un profondo legame con Zendikar tu sei stata scelta per questo compito salva il nostro mondo Nissa Revain lei ne era in grado per la prima volta Nissa sentì di essere in grado di compiere l'impresa che le veniva richiesta prese i semi le sue guance furono invase immediatamente da un caldo sangue di colpevolezza le tornò in mente l'elementale dietro di sé non si era ancora abituata ad avere con sé un elementale che non tornasse nella terra una volta lasciato libero Ashaia era stata al suo fianco per tutto il tempo l'aveva vista ricevere i semi Nissa si voltò lentamente verso il mondo risvegliato l'elementale era in piedi davanti a lei alto e stoico di fronte al suo tradimento la vergogna invase il corpo di Nissa Aspetta si voltò di nuovo verso il vampiro ma era già svanito anche i corpi dei caduti erano svaniti non fece alcun tentativo di cercarlo o di seguirlo avrebbe potuto ma decise diversamente rimase invece in piedi in quel vuoto accampamento corrotto all'ombra dell'elementale mentre il tessuto si impregnava del sudore del suo palmo percepiva le vite dei semi al suo interno gli alberi che un giorno sarebbero potuti diventare ognuno di loro una piccola parte di Zendikar perché mai si sentiva in colpa per il desiderio di salvarli perché non dovrei almeno fare un tentativo si voltò verso Asshaya per tutto questo tempo ti ho detto che non sono in grado di compiere l'impresa che mi chiedi attese ma ovviamente Asshaya non è rispose ma questa questa è un'impresa alla mia portata almeno in questo modo saprai mise il tessuto in tasca saprei che Zendikar continua a vivere deve essere sufficiente Asshaya si avvicinò e aprì il proprio palmo verso Nissa l'elementale formò poi un pugno e lo portò al proprio petto per poi allungare di nuovo la mano e srotolare lentamente ogni dito continuo a non capire sussurrò Nissa forse qualcun altro capirà le parole di Nissa non fermarono Asshaya l'elementale eseguì il gesto una seconda volta mentre stava per eseguirlo una terza volta Nissa lo spinse chiedendogli di tornare alla terra di tornare a Zendikar era giunta l'ora ma l'elementale non seguì il volere di Nissa le sue radici non penetrarono nel terreno e i suoi rami non si mossero Nissa insistette vai! Asshaya si avvicinò a Nissa allungò la mano ed eseguì il movimento ancora una volta basta! Nissa raccolse le proprie energie e le indirizzò all'elementale spingendolo via ma lui continuò a rimanere davanti a lei e aprì il palmo verso il cielo perché continui a fare questo gesto non capisco disse Nissa non ne capisco il significato imitò il movimento di Asshaya che cos'è questo gesto? quando Asshaya strinse il pugno e lo portò al petto Nissa lo imitò sì lo vedo ma il respiro di Nissa si bloccò aveva appena srotolato il suo primo dito e vide fuori uscire una brillante linea verde una linea che andava fino all'altro lato oltre la corruzione e poi emergeva di nuovo avviluppandosi tra gli alberi e attraversando le foglie delle piante scintillava di potere Nissa non osò respirare e srotolò il secondo dito una seconda linea apparve questa seconda linea si è stese in una direzione leggermente diversa e poi si impennò fino ai rami più alti della foresta altre tre dita altre tre potenti connessioni il mondo si rivelò di fronte a Nissa di un verde brillante e intriso di potere si trattava delle ley line Nissa aveva sentito parlare del loro potere il potere della terra il cuore di Kalni il potere che fluiva attraverso il mondo intero un'ultima ley line fluì dal suo palmo rivolto al cielo era la linea più spessa e aveva l'aspetto di una solida radice si estendeva dal palmo di Nissa fino ad Asshaya entrando e uscendo dalle radici e dai rami che formavano il petto le braccia e le gambe dell'elementale questa era la linea che collegava Nissa a tutto ciò che era Asshaya era la linea che la collegava all'anima di Zendikar tutt'uno non era una parola non era stata pronunciata ad alta voce era invece una sensazione che giunse a Nissa da Asshaya tutt'uno il verde potere brillante emanò dal palmo di Nissa attraverso il suo braccio fino al petto e lei comprese questo potere questi legami erano sempre stati presenti erano ciò che Asshaya aveva cercato di mostrare a Nissa ora Nissa sapeva come vederli Nissa mosse le proprie dita una per volta sentendo quella rete di energia era come se possedesse centinaia di nuovi appendici dita che erano alberi rovi al posto dei pugni la terra stessa al posto di braccia e gambe la forza di Zendikar lui dentro di lei e pulsò dal suo interno tutt'uno si era sbagliata Amadi si era sbagliato Zendikar non le aveva chiesto di compiere questa impresa da sola non l'aveva scelta non c'era alcuna scelta da compiere lei era parte del mondo connessa ad esso come ogni altro essere vivente un albero non sceglie un ramo il ramo è semplicemente una parte dell'albero è un tutt'uno con l'albero quando l'albero cresce quando l'albero si piega o quando l'albero cade anche il ramo lo segue e quando il ramo freme quando le foglie nascono o quando i frutti si sviluppano anche l'albero lo segue Nissa non poteva essere scelta da Zendikar e non poteva scegliere Zendikar dato che era un tutt'uno con Zendikar se Zendikar era in pericolo lo era anche Nissa se il mondo contrattaccava lo avrebbe fatto anche Nissa senza dubbi senza esitazione per Zendikar la sensazione proveniva da Asshaya per Zendikar disse Nissa emozionata per Zendikar la sicurezza di Asshaya per vase Nissa e le leyline brillanti che la attraversavano furono colme di potere per Zendikar urlò lei l'intero mondo si illuminò riflettendo l'intensità di Nissa che si lanciava all'interno della foresta corse lungo il sentiero di corruzione che era stato creato dall'eldrazi con i tentacoli quando si era allontanato dall'accampamento aveva trovato un bersaglio per la sua passione dopo soli pochi passi era chiaro che la foresta fosse un luogo completamente nuovo e incredibile sebbene avesse corso tra gli alberi innumerevoli volte non aveva mai vissuto una sensazione come questa questo pensò Nissa è avere un vero legame con la terra il mondo reagì alla sua presenza ogni volta che uno dei suoi piedi toccava il terreno si trovava su un terreno nuovo e florido le buche nelle quali le sue caviglie sarebbero potute cadere si chiusero le radici che avrebbero potuto farle inciampare accolsero i suoi piedi e la lanciarono in avanti spingendola verso il rovo successivo che l'avrebbe spinta verso un ramo che l'avrebbe accolta e lanciata per atterrare su un letto di muschio questo voleva dire essere un tutt'uno con Zendikar Ashaia procedeva al fianco di Nissa una presenza sicura Nissa non aveva bisogno di utilizzare alcuna energia per ordinare alle elementali di muoversi o di prendere una certa direzione dato che Ashaia sapeva dove andare sapeva dove Nissa sarebbe andata sapeva di cosa Nissa avrebbe avuto bisogno sapeva le sensazioni che Nissa provava Ashaia conosceva il rimorso di Nissa e conosceva la determinazione di Nissa di salvare il mondo in modo da poter un giorno piantare nel terreno stesso di Zendikar i semi che trasportava il vampiro aveva avuto ragione nel dare i semi a Nissa aveva anche avuto ragione sulla capacità di Nissa di salvare Zendikar ma si era sbagliato sul fatto che avrebbe dovuto abbandonare Zendikar si era sbagliato sul fatto che non sarebbe stata in grado di distruggere il titano con la forza del mondo dentro di sé con il potere di Zendikar che scorreva in lei non c'era nulla che non sarebbe stata in grado di fare guardò Ashaia i due erano un tutt'uno pieri potenti pronti insieme sarebbero stati sufficienti una roccia si mosse per lasciar passare Nissa svelando il nascondiglio dell'eldrazi con i tentacoli la mostruosità non disturbata dal fatto di avere un solo tentacolo rimanente si stava affrettando attraverso un letto di fiori lasciando una scia di corruzione dietro di sé basta Nissa scattò in avanti parti di roccia la terra con i rovi e il muschio che le crescevano intorno la seguirono insieme seguendo le ley line brillanti che fluivano dalle sue braccia allineandosi ai suoi movimenti e diventando estensioni della sua forma tutt'uno quando i suoi piedi toccarono la corruzione dietro l'eldrazi Nissa si preparò a colpire la terra formò una lancia intorno alla sua mano con una luce al suo interno di fianco a lei Asshaya copiò i suoi movimenti i loro colpi furono precisi sicuri e letali la lancia di terra attraversò l'eldrazi proprio mentre il pugno di Asshaya ne frantumava la piastra ossuta l'orrore emise un ultimo debole cinguettio e crollò a terra non avrebbe più rovinato nessun filo dell'erba di Zendikar Nissa si resse sul suo corpo inerme senza fiato non perché fosse stanca ma perché era rinvigorita perché voleva farlo di nuovo era giunto il momento di sollevarsi era giunto il momento di combattere era giunto il momento di salvare il mondo Asshaya comprese la sensazione di Nissa e la sentì anche lei abbassò la sua mano imponente appoggiando la terra proprio davanti al piede di Nissa aperta e invitante Nissa salì sul dito dell'elementale simile a un ramo una folata di verde potere vorticò intorno a lei riempiendola in maniera straripante per Zendikar urlò lei Asshaya sollevò Nissa e la mise sulla sella formata dai due spessi corni in cima alla sua testa le leyline brillanti risposero sviluppandosi da Asshaya attraverso Nissa e richiudendosi le linee tennero Nissa collegata ad Asshaya che si sollevò procedendo impetuoso attraverso la foresta un'immensa falcata dopo l'altra la loro caccia era iniziata e la loro preda era un titano Eldrazi Nissa aprì le braccia inviando un messaggio lungo le linee che uscivano dalle sue dita in risposta al suo messaggio un esercito di elementali delle dimensioni di un baloth prese forma si schierarono al fianco di Nissa e Asshaya si unirono alla carica pronti a combattere per salvare il loro mondo e questa è la fine della storia ringrazio Candrone del follow grazie mille e anche un'equale diff che l'ho visto adesso il follow grazie mille spero che la lettura sia stata di vostro gradimento ora fatemi leggere perché è durata un sacco senza pause questa allora gli uccellini benissimo Katoka ciao scusa se ti saluto solo adesso scusatemi veramente portare i semi su un altro piano Varen a prova oddio Nairi dà la pazienza inesistente 1 è a disposizione 30 secondi per finire il tuo turno altrimenti un avversario gioca un turno aggiuntivo meno 1 un avversario ha a disposizione 20 secondi per finire il tuo turno altrimenti gioca un turno meno 7 se la partita superi 5 minuti alza la tavola e lascia il piano Dark Chaos buonasera salva la cheerleader Nissa salva il mondo citazioni di un certo livello eh sì qua si vede secondo me diciamo il pieno potere di Nissa cioè qua di fatto Nissa è passata da essere un elementale un elementalista già comunque molto più forte del normale perché aveva comunque una connessione col piano e qua scopre come connettersi alle ley line del piano quindi avere essenzialmente letteralmente tutto sotto il suo controllo ed è tanta roba diciamo Nissa è una dei più diciamo a livello di raw power level probabilmente una delle più forti Neo Neo Walker Nairi dei rage quit e diciamo appunto per non per essere relativamente giovane perché è comunque un elfa dovrebbe avere almeno un centinaio di anni quindi diciamo che è diventata planeswalker tardi perché era già grande quando insomma gli si è accesa la scintilla esatto è giovane tra virgolette chiaramente essendo un elfa però è un personaggio a cui tra l'altro hanno dato anche poi andando avanti comunque una certa profondità c'è già solo il fatto cioè già qua in realtà è molto profonda perché ha dei dubbi dice scusa ma quindi cioè ok mi hai scelto ma valgo davvero così tanto sono davvero degna che non riesco nemmeno a salvare un accampamento cioè si prende male si prende molto male dice ho tutto questo potere e nonostante tutto non riesco a fare quello che mi viene chiesto e adesso diciamo Ashaia continuava a dirle prova a fare sta cosa con la mano vedi che poi alla fine c'è arrivata essenzialmente questa è la 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 situazione allora mi spengo un attimo la music mi giro un po' la testa eccoci oddio quello sarebbe sarebbe particolare come 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 potere ecco sarebbe molto molto particolare il potere di poter accogliere in sé le anime del mondo però insomma è è un buon già il potere appunto di tra virgolette interloquire direttamente con un piano o comunque con una sorta di rappresentazione mentale una sorta di persona del piano è potenzialmente forte e tra l'altro è una cosa che vedremo anche in futuro quando proverà a mettersi in contatto tra virgolette con l'anima di altri piani diciamo che la rende un bel personaggio da avere in giro appunto soprattutto su piani che non sono zendikar vedere come questo legame che con zendikar è ovviamente reciprocamente bello nel senso che hanno fiducia lei ha fiducia in zendikar zendikar fiducia in lei e già si è visto con l'orwin come l'orwin l'anda tenebrosa in un certo modo volesse il suo potere era una cosa molto più oscura sì esatto dimostra che comunque i piani se in un certo modo possono comunicare o comunque possono avere delle non so se dire emozioni ma comunque una volontà una una un qualcosa perché appunto sono comunque delle entità ecco diciamo che dimostra che i piani non sono puramente fisica ma c'è anche dello spirito hanno appunto questa sorta di anima e sono quindi a tutti gli effetti delle entità non direi senzienti però sicuramente con delle caratteristiche particolari un giorno i piani prendono vita diventano dei piani animati no però insomma è interessante è interessante diciamo quello che hanno messo sul piatto da quando hanno fatto essenzialmente parlare NIS con i piani assolutamente ed è una cosa poi tra l'altro che è stata ripresa proprio in Zendikar anche nella diciamo nel flashback della Zendikar originale il fatto che comunque le leyline hanno un ruolo fondamentale anche nel definire come un piano si comporta in un certo modo e e quindi insomma poi vedremo in futuro questa cosa viene ovviamente approfondita e avremo altre occasioni in altri contesti di vedere lei Nissa interloquire con altri altre entità alla con il piano superiore inferiore di un edificio esatto e comunque questo diciamo questo è il prologo di battaglia per Zendikar ci ha fatto un po' il recap di tutti i nostri planeswalker di diciamo di Magic Origins quindi abbiamo alla fine di tutto giusto per fare un piccolissimo recap Gideon e Jace che vanno insieme su Zendikar perché Gideon ha scoperto che c'è questa rompicapo delle leyline che sembrerebbe essere cruciale per capire come sfruttare gli edri in un qualche modo contro gli Eldrazi un modo un possibile modo per sconfiggerli e ha chiamato Jace perché diciamo ha la nomea di essere appunto un mago blu e quindi di risolvere Enigmi e avere comunque una conoscenza del piano di Zendikar perché lui c'è stato e Gideon invece è rimasto tutto il tempo da Rise of Eldrazi fino ad ora su Zendikar a cercare di aiutare la popolazione contro gli Eldrazi ed è arrivato diciamo a questo dopo aver trovato una possibile soluzione definitiva ha scelto di andare a cercare aiuto essenzialmente Liliana invece è sempre intenta a sconfiggere i suoi demoni non gliene frega niente di Zendikar ha provato ad andare a chiedere aiuto a Jace per sconfiggere gli altri due demoni e aiutarla con la maledizione del velo di catena ma lei è troppo orgogliosa per chiedere aiuto apertamente quindi Jace dice prima di sì a Gideon e Liliana lo manda a quel paese essenzialmente e cerca diciamo da sola di poter sconfiggere gli altri due demoni per liberarsi dal suo patto Chandra invece viene contattata da Gideon e Jace appunto per aiutarli a sconfiggere gli Eldrazi anche perché anche lei ha diciamo contribuito a liberarli nella sua ultima visita a Zendikar ma decide di rimanere su Regata quindi il piano dove ha il suo alla sua abbazia il suo tempio dei monaci del fuoco dove appunto è appena diventata abate e quindi ha deciso di essenzialmente concedersi completamente a a coloro che l'hanno accolta quando è fuggita da Kaladesh e a tuttora quindi sembra che non voglia o comunque che non abbia intenzione di andare su Zendikar per aiutare i nostri Jace e Gideon e Nissa l'abbiamo appena vista quindi ha appena ottenuto probabilmente il massimo del suo potere su Zendikar la connessione diretta alle Ley Line esatto 3 su 5 hanno aiutato a liberare gli Eldrazi esattamente e questo appunto è l'Incipit quindi sappiamo da quando inizieremo le letture di vere e proprie di Battle for Zendikar sappiamo diciamo che partirà proprio da questa situazione non c'è una pausa non c'è un time skip non c'è niente si parte subito diciamo con eventi subito successivi a quello che è stato raccontato in queste 5 storie quindi e qua mi aggancio quando saranno le prossime storie di Battle for Zendikar saranno tra un po' un po' cosa vuol dire il mio un po' se non sbaglio approfondiscono anche questo diciamo che il bello delle magic story come erano fatte un tempo è che in realtà come stanno tornando ad essere ultimamente che è una cosa di cui mi rallegro è che stanno tornando un pochino è che al suo tempo e adesso stanno tornando ad approfondire anche cose passate in un certo senso come in questo caso con Nissa avremo degli approfondimenti su come lei si sente sul fatto che di fatto è stata praticamente lei a dare il via alla liberazione degli Eldrazi cioè senza se e senza ma poi c'è stato tutto il retcon delle motivazioni ovviamente perché c'è stata la diciamo il grande retcon dalla dalla nazielfa Nissa alla hippie elfa Nissa io non vedo l'ora Kuja nella guerra dei fratelli davvero non vedo l'ora e quindi le prossime letture a me piacerebbe iniziarle diciamo dopo l'uscita o comunque dopo che abbiamo esaurito tra virgolette i contenuti per Crimson Vau perché così tanto tempo perché sono tante storie io sono riuscito a portarmi un po' avanti nel frattempo che abbiamo letto queste in queste quattro settimane ne ho diciamo ho rivisto tutte le le prime cinque storie sono quattordici in totale sono molte di più di quelle a cui siamo abituati che è anche il motivo per cui diciamo se fossero state le solite cinque o sei sarei praticamente già in fondo al lavoro e avrei potuto portarle molto più presto diciamo che la mia intenzione appunto è essere sicuro al cento per cento di ricominciare le letture quindi diciamo a metà novembre perché ho visto che mettere le letture durante le stagioni di spoiler esatto è un bordello perché ho avuto io allora io ho voluto provare a farlo perché durante midnight hunt perché queste letture le avevo già preparate sono riuscito a prepararle prima dell'inizio degli spoiler di midnight hunt diciamo che sono arrivato a un punto in cui riesco a più o meno calcolarmi i tempi e so cosa devo fare lo faccio non dico velocemente però insomma lo faccio più velocemente di prima e quindi esatto e quindi le letture possibilmente le metterò in pausa qualora andassero ad accavallarsi con spoiler o nuovi prodotti che mi vanno ad occupare tanto tempo poi magari che ne so infinity in realtà fanno gli spoiler molto più dilazionati e riesco a buttarci in mezzo delle letture però vedremo no c'è un po' tipo adesso sarebbe per me è un periodo ideale per mettermi sotto forte con le storie di zendikar perché abbiamo appena finito midnight hunt per crimson vow perché gli spoiler partano a pieno regime ce ne vuole almeno un mesetto mi verrebbe da dire quindi io ho un mese circa di tranquillità in cui dove prima dove appunto fino a due settimane fa io ogni momento libero dovevo fare gli spoiler e magari appunto preparare le live di lettura adesso invece posso dedicarmi a fare tutto quello che c'è da fare quindi preparare la traduzione sistemarla le immagini le animazioni delle immagini novità poi tra l'altro per dato che iniziamo un bel arco narrativo peso novità sui vostri avatar qualche un paio di accessori mi verrebbe da dire nuovi da poter sfoggiare e ho già in mente ve lo spoiler ho già come adesso ci sono i simboli di Strixhaven che possono fluttuare attorno a voi un bel ledro luminoso non sarebbe diciamo a tema con Zendikar da poter avere in giro o magari le cose di Kozylek che sono fluttuanti pure quelle ecco e poi tra l'altro se faccio in tempo ed esploro una funzionalità degli avatar potrebbe venire fuori una figata bellissima però questo non vi dico niente su questo non vi dico niente scusate diciamo che se riesco a farlo e se è una cosa carina che funziona secondo me per alcune letture particolari potrebbe essere una cosa carina e che tra l'altro vi potrà fare interagire in qualche modo con la con la live quindi però non vi dico nient'altro grazie e quindi insomma avere comunque un po' di tempo per potermi dedicare di più a queste cose ovviamente mi fa corredo e quando ci sono le stagioni di spoiler no perché io sono lavoratore mentre lavoro ho la scheda devo vedere gli spoiler così mi preparo già psicologicamente alla sera di dire ok quante carte devo tradurre quante oh mio dio no un nuovo frame delle carte devo mettermi lì a farlo in realtà penso ci sia già Hope ma non ho avuto modo di sfruttarla e diciamo che l'idea che avevo in mente per le letture di Zendikar è una cosa che non ne è con la non c'entra con la battle royale ma c'entra con una cosa molto simile vi posso dare questo indizio scusate però appunto perché ho visto che c'è una funzionalità degli avatar e voglio cercare di sfruttarla noi però non è che finiscono le live ok mentre mentre io lavoro noi quando ci vediamo allora la mia idea e adesso visto che siete in un po' e come al solito vi ringrazio la mia idea sarebbe io ho già tradotto la guida del planeswalker e i due articoli delle leggendarie di midnight hunt la guida del planeswalker è molto 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 corta perché appunto non spiegano tutto il piano spiegano solo le cose nuove di in strada di midnight hunt e abbiamo le leggendarie la mia idea era venerdì sera questo quindi dopo domani vi piacerebbe lore live innistrad midnight hunt con le novità essenzialmente quindi non faremo un excursus di tutta innistrad ma faremo soltanto le cose nuove o è meglio magari la settimana prossima andando a sostituire un po' il mercoledì delle letture che sono due diciamo sono due opzioni valide ditemi voi diciamo do la priorità ai presenti di di esprimere un'eventuale preferenza diciamo il vantaggio di farla magari la settimana prossima è che potrò preparare magari qualche cosetta grafica in più solo quello ok mercoledì in realtà mi andrebbe bene anche a me era solo che l'avevo accennato di farlo venerdì però però è forse è meglio il mercoledì così si va un pochino a sostituire diciamo torniamo a una scaletta di live un pochino più leggera durante appunto durante un po' questo periodo di calma tra l'altro mi dovrebbe arrivare perché mi è arrivata la mail oggi dal sommo UPS dovrebbe arrivarmi il pacco regalo da parte di mamma withy in settimana quindi se arriva quello la live extra di unboxing quella non ve la toglie nessuno anche perché ho degli altri codici da dar via quindi volevo volevo sfruttare la situazione quello insomma vi aggiorno appunto appena ho la certezza di tutto quanto e magari kuja magari vediamo 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 se arriva e se cosa c'è e vediamo insomma non fate finta che non vi ho detto niente e quindi allora dai mercoledì prossimo segnatevelo facciamo la diciamo una lore live barra leggendarie di Innistrad e magari così approfondisco qualche leggendaria quelle che magari sono già apparse che sarebbe carino ed eventualmente insomma come al solito qua sotto ci sono i social facebook twitter da lì voi sapete sempre quando vado in live senza dubbio e allora fatemi tornare un attimo qui poi per quanto riguarda altre live allora cosa volevo fare anche approfittando della pausa spoiler provare a vedere se riuscivo a incastrare le traduzioni degli delle storie spin off di innistrad midnight hunt nel caso fossi riuscito a farlo magari buttarci dentro delle letture attuali della storia di innistrad midnight hunt questo è un grande forse ve lo dico subito è un grandissimo forse che diciamo prima voglio vedere in che modo riesco a mettere davanti in fila le storie di zendikar diciamo che do priorità alle letture effettive se riesco a incastrarci anche le letture attuali sarebbe bello sarebbe bello e in questo modo magari si riescono a fare un paio di live a settimana con vabbè che non penso ci saranno troppi problemi a fare un paio di live a settimana però gli spunti ci sono sempre gli spunti ci sono sempre tra unboxing ci sono dei secret layer che ancora mi devono arrivare che non ho la più pallida idea di quando dovrebbero arrivare quindi potrebbe essere che in questo periodo di tempo me ne arrivi uno e basta e ci sono tanti approfondimenti di lore da poter fare vedo vedo diciamo che io all'inizio parto molto lento se vi potete ricordare quanto è passato da le letture di Eldraine alle letture di Magic Origins ma una volta che ho capito e diciamo mi sono dato tra virgolette una scaletta io poi vado faccio tipo ieri ho dovuto riguardare la traduzione della quarta storia di Zendikar era ieri sì io sono venti pagine circa ho iniziato la sera ho detto ma sì dai facciamola iniziamola e poi ho iniziato mi sono dato ah sì ok arrivo fino a questo a questo fine paragrafo faccio vado ok poi eh però dai vado avanti ancora un po' tatatata beh dai non manca così tanto questo paragrafo è corto vado avanti e niente alla fine l'ho finita tutta era sera e l'ho fatta quindi cioè se tutto va bene riesco volendo a fare quella parte lì una storia al giorno quindi e poi diciamo e quella è una parte del lavoro poi c'è la parte di prendere le art animarle rileggere la storia trovare le musichette e fare le playlist insomma non sto qua a tediarvi e poi appunto con Zendikar volevo anche darvi un qualcosa di più a livello grafico quindi qualche grafichetta nuova tema le cose nuove degli avatar quella novità che volevo fare insomma diciamo che comunque il tempo di attesa spero non sarà diciamo non vi peserà per poi vedere quello che farò questo è questo è quanto questo è quanto poi magari mi viene poi appunto di mezzo sappiate che ci sarà il mio trasloco quindi per forza di cose ci saranno dei giorni in cui probabilmente mi dovrò dedicare interamente a mettere le cose in casa nuova e poi appunto vedremo poi probabilmente cambieranno un po' di cose da quando andrò in casa nuova e una delle cose che mi piacerebbe fare è magari riprendere arena un pochino almeno da dire ma sì la sera torno a casa e mi metto a streamare arena a fare draft perché alla fine farò quello l'unica cosa che mi piace di arena è che ci siano i draft oh esatto oppure quella il brawl 100 carte però insomma diciamo che ogni volta che dico ma vediamo se arena in che stato è vado a vedere sul gruppo clepsydra dove ci sono tutti che si lamentano del eh ma non riesco a entrare ho fatto la paccia due giorni che non entro eh ma c'è questa carta che è buggata se la giocate cresce a tutto e oh mio dio mi hanno fatto matchmaking mi hanno fatto uscire draw ma in realtà è una sconfitta mi ha abbassato il rank cioè c'è insomma uno schifo cioè dal punto di vista tra l'altro professionale perché sono comunque uno sviluppatore come fai a far rimanere in piedi una cosa del genere senza sistemare i bug eh perché il problema è che ci sono dei bug da quando giocavo io un anno fa che ancora non li hanno risolti è quello un pochino la cosina grave ma comunque ma comunque diciamo mi metto anche nei loro panni perché sembra che tutta la divisione arena sia diciamo abbia poche persone che siano trattate male poverino esatto è il cyberpunk dei giochi di carte online praticamente arena e quindi insomma non voglio dissare troppo su arena o insomma pestare troppo i piedi di una cosa che appunto non sto vedendo ma sto vedendo tramite altre e bababababah cosa dovevo dire niente se non come al solito ringraziare tutti voi che siete stati qua in nostra compagnia durante la mia lettura spero che la storia vi sia piaciuta spero che queste letture questo prologo vi abbia anche messo un pochino l'interesse la voglia di scoprire cosa succederà in perché ha bloccato a te come l'ha visto come una brutta parola non so perché e e quindi diciamo darvi anche la curiosità di sapere di voler sapere che cosa ci sarà di che cosa ci riserverà la storia di battle for zendikar in avanti io ovviamente vi faccio sapere tutto tutti gli aggiornamenti live varie ed eventuali mercoledì prossimo quindi già appuntamento per la lore live di innistad midnight hunt andiamo a vedere le novità a livello di diciamo background del piano che cosa è successo dal emrkul ad ora tutte le leggendarie quindi sia quelle che già sono apparse sia le nuove leggendarie le approfondiremo adesso diciamo che col fatto di avere una settimana di tempo magari posso preparare degli approfondimenti un pochino più sostanziosi su quei personaggi che già sono comparsi nella storia che è una cosa che sicuramente è interessante e vi faccio sapere per un eventuale unboxing vi faccio sapere per eventuali letture in framezzo della storia di Innistrad per tutto il resto io vi rimando ai miei social in cui vi invito se non l'avete già fatto a fare like a seguirmi a iscrivervi quello che vi chiede di fare il social in questione essenzialmente per poter ricevere gli aggiornamenti io vi ricordo che appunto per sostenere quello che faccio per farmi diciamo per supportarmi dite ai vostri amici condividete commentate fate vedere anche sugli altri social magari che tal post o quelle cose lì vi piacciono spargete la voce perché questa è la cosa più importante se vi piace quello che faccio se vi diverte vi rilassa stare con queste serate di lettura insieme e avete altri amici che magari vogliono scoprire la Lord di Magic in maniera diciamo abbastanza accademica perché alla fine leggiamo e o appunto sono già appassionati e vogliono magari appunto riscoprire le storie che magari avevano già letto in passato noi siamo qua dite che insomma siamo anche sempre un discreto numero è una cosa che mi fa piacerissimo soprattutto da quando abbiamo iniziato a fare questa cosa e inoltre vi ricordo che c'è anche la sub qua al canale Twitch che è un altro modo per supportare tutto quello che faccio e e niente fate sapere in giro quello lì secondo me è il più importante in assoluto come diciamo approccio al voler sostenere il contenuto di di un creator mi sto definendo content creator attenzione ho questa presunzione ho questa presunzione quindi di nuovo io vi ringrazio tantissimo come sempre spero di avervi fatto passare una bella serata io come sempre a me piace fare queste cose mi piace vedere che vi piace e quindi sono contento e ci vediamo mercoledì prossimo sicuramente per la lore live per altre eventuali cose a parte la telecamera che mi deve mettere a fuoco social qua sotto inoltre su youtube ricaricherò le live come al solito dopo qualche giorno domani ricarico la live dell'unboxing del set booster quindi se ve lo siete perso volete vedere qualche highlight state attenti al canale youtube vedremo se ci saranno anche delle collector booster vedremo vedremo quindi buonanotte dai non sono neanche le 11 siamo stati bravissimi e ci vediamo mercoledì prossimo buonanotte grazie ancora alla prossima grazie a tutti grazie a tutti